Intanto il nostro obiettivo di squadra non l'abbiamo raggiunto e ci mancano ancora tre punti perché tanto ormai lo sapete, è chiaro, e quindi ci mancano tre punti. Poi dobbiamo chiudere il discorso salvezza che è l'obiettivo societario di quando abbiamo iniziato la nostra stagione e poi una volta fatto questo è chiaro che ce ne porremmo un altro che deve avere il sapore dell'impresa, deve avere il sapore del miracolo sportivo perché poi i miracoli sono altri, però ci vogliamo provare con tutte le nostre forze e quindi io non posso pensare che a 15 giorni dal termine del campionato regolare qualcuno possa abbassare la tensione perché se no vorremmo dire che dal punto di vista professionale mancheremmo in qualcosa. La mentalità ormai penso sia assimilata, è chiaro che veniamo da un momento positivo, i ragazzi meritano soddisfazioni, meritano gli elogi che hanno avuto in queste settimane perché sono stati straordinari a venire fuori da una situazione complicata perché prima della partita di fermo potevamo andare anche in paura e invece abbiamo reagito con forza e quindi ora questi sforzi a 15 giorni dalla fine devono avere un senso perché mancano due partite e queste due partite vanno giocate con il coltello tra i denti, con tutte le nostre forze a costo di finire stremati sul campo ma senza rimpianti. Io ho grande rispetto di quell'ambiente, ho grande rispetto di quella squadra e di quei calciatori perché so con quanta meticolosità preparano le partite e poi so come riescono a farti male se giochi male tecnicamente e so come riescono a venirti addosso in pressing perché sono aggressivi e intensi. Quindi è una partita ricca di insidie e mi auguro che noi riusciamo a fare veramente una partita super perché solamente così secondo me riusciremo a venire a campo.